Salve a tutti, siamo arrivati nella nostra storia della metafisica occidentale a Melisso di Samo. Melisso di Samo, contemporaneo di Zenone, che secondo una certa tradizione sarebbe stato allievo di Parmenide. Noi non abbiamo questa certezza, in realtà possiamo dire che con una certa probabilità conoscesse sì il pensiero di Parmenide e forse anche il pensiero di Eraclito. Quindi possiamo dire che Melisso non apparteneva a una scuola specifica, il suo pensiero effettivamente può essere descritto come un incontro per certi versi di certi aspetti del pensiero Parmenide o con certi aspetti del pensiero Eracliteo, inseriti all'interno di una visione fisica, fisica così come l'abbiamo incontrata nei pensatori ionici, Talete, Anassimene e via dicendo. Quindi potremmo dire la questione dell'essere inserita all'interno di un piano, di una dimensione appunto fisica. E anche Simplicio era di questa idea. Simplicio ci ricorda che il titolo dell'opera di Melisso sulla natura o sull'essere indicasse già appunto dal titolo stesso questa idea e cioè che appunto l'essere si risolvesse nella dimensione della natura. Detta in altri termini, essere e natura in Melisso coincidono. Quindi l'essere per Melisso è ciò per cui tutte le cose sono e senza di cui le cose tutte le cose non sarebbero. E quindi ancora essendo tutte le cose, tutte le cose si risolvono in esso, nell'essere. E allora l'essere è l'intero, l'unico sfondo in cui le cose si, diciamo così, hanno il loro manifestarsi, hanno la loro porzione di esistenza. Sì, l'essere è la natura delle cose. E certo perché tutte le cose che sono, questo è il ragionamento di Melisso, proprio perché sono, allora sono nell'essere, sono dall'essere. Ma soprattutto si risolvono nell'essere. E l'essere è uno, è uno perché se fossero più esseri ogni essere limiterebbe l'altro essere. Quindi l'essere è uno e l'essere è infinito. La totalità è infinito perché se fosse limitato, appunto, vi sarebbe qualcosa che non è essere, vi sarebbe qualche cos'altro, diciamo così, alato dell'essere. E essendo uno bisogna che non abbia corpo, perché non è corporeo. Non è corporeo appunto perché non è limitato. E tutto ciò che è corpo, invece, è limitato. E allora, appunto, l'essere è infinito. Però è un essere che, come dicevamo prima, è un essere che coincide con la fisica. Quindi sì, non è corpo, ma è una estensione fisica infinita. Una estensione fisica, potremmo dire indeterminata infinita. Un continuum fisico. Un continuum, una estensione fisica che in quanto tale è priva di attributi. Allora, allora è illusione credere che i molti siano come degli enti l'uno a fianco all'altro, ognuno dei quali abbia essere di per sé, sia ente in sé. E così pure è illusorio pensare che questi enti mutino, che nascano, che crescano, che muoiano. Però attenzione, questo non vuol dire che Melisso neghi l'esistenza dei molti. Quello che Melisso nega è che i molti esistano in sé, di per sé. Invece i molti esistono per l'essere, grazie all'essere. I molti sono, ma in forza dell'essere, nell'essere. Leggiamo un frammento di Melisso, il frammento 7 della sua opera, dove dice riguardo alla natura, alla natura che è, la natura che è una, che è infinita, che è a sua disposizione, né soffrir dolore, né provar sofferenza. Basterebbe dunque che l'essere diventasse diverso anche di un solo capello in diecimila anni perché si annientasse completamente. Ma poiché niente si aggiunge o perisce o diventa diverso, come potrebbe mutarsi qualcuno degli esseri? Ecco, qui troviamo un elemento tipicamente parmenideo, ovvero la negazione del mutamento. Quindi tutte le cose che ci sono, dice Melisso, ci sono nella natura ma non mutano. Quindi le singole cose che l'opinione comune vede mutare da un ente a un altro ente, trasformandosi da un ente a un altro ente, ecco tutto questo da Melisso è negato. Però Melisso non nega che tutte queste cose, questa pluralità di cose, anche le cose appunto, gli enti che si trasformano da un ente a un altro tipo di ente. Ecco, dicevo, Melisso non nega che questa pluralità di enti esista. Esistono tutti nella natura. Tutti sono nella natura, non esistono come pluralità, non esistono come l'uno a fianco all'altro, come dicevo, ma tutti nella natura. Esiste il fuoco, esiste il ferro, esiste la terra, esiste il caldo, esiste il freddo. Tutti esistono ma non in quanto molti. Leggiamo un altro frammento che è il primo frammento in realtà della sua opera dove si dice sempre era ciò che era e sempre sarà, perché se fosse nato sarebbe necessario che prima di nascere non fosse nulla, ma se non era nulla, dal nulla non sarebbe potuto nascere nulla in alcun modo. Tipica, anche questa tipica impostazione assolutamente parmenidea. Con la differenza ovviamente rispetto a Parmenide che Parmenide ne deduce che i molti non vi siano, non possano esistere, mentre invece la conclusione di Melisso è che i molti ci sono, ma ci sono da sempre e non si trasformano gli uni negli altri e soprattutto non sono altro rispetto ovviamente all'essere natura. Infatti la frase stessa che abbiamo appena letto sempre era ciò che era e sempre sarà, è riferita proprio a questo. Ogni ente è ed è sempre stato e sempre sarà quello che è. E così tutti gli altri enti, tutti gli enti che sono all'interno di quella unicità, di quella totalità, di quell'essere infinito e unico appunto che è la natura. E che solo i nostri sensi, appunto il nostro essere nell'illusione potremmo dire, ritiene che ogni ente appunto sia, cioè che ogni ente abbia l'essere di per sé e che ogni ente si trasformi in qualche cosa di altro. Quindi detta in altri termini nessuna cosa è, nessuna cosa è se non ricondotta alla infinita unità dell'essere. Quindi in melisso essere e natura coincidono in un tutto dove tutto è sempre essere. È sempre essere, è sempre inesorabilmente quello che è. Ecco, è sempre essere, è sempre inesorabilmente quello che è, è sempre nell'essere. Ripetiamolo per l'ultima volta. Dunque, tutti gli enti sono, sono da sempre, sono per sempre. Quindi in che senso gli enti che si trasformano sono anch'essi? Non in quanto enti che si trasformano, ci dice Melisso, ma in quanto quella pluralità di enti che sono, diciamo così, i vari fotogrammi che fotografano ogni istante di trasformazione di un ente, da quell'ente a quello in cui si trasforma. Ecco, in realtà non c'è il fenomeno trasformazione, però quei singoli enti, quegli innumerevoli enti che sono il passaggio da un ente a l'altro ente, quell'altro ente in cui noi diciamo si è trasformato l'ente precedente, ecco, tutti quegli enti sono da sempre, sono adesso e sono per sempre. Ecco questa, ecco questa posizione è una posizione, cioè quella riguardante alla questione della trasformazione degli enti, ecco, è una posizione che è molto similare a quella di Emanuele Severino, che naturalmente parte da Parmenide, come tutti gli studiosi di Severino sanno, come tutti anche i suoi lettori di Severino sanno, ma per quanto riguarda la questione della trasformazione degli enti, Severino ha dovuto trovare un'altra risposta che in Parmenide non si rintraccia effettivamente. E in questo Severino molto probabilmente, ma poi ne parleremo quando parleremo di Severino fra 200.000 anni, dicevo, molto probabilmente prende qualcosa da questo filosofo e da un altro poco studiato di cui noi non parleremo, che è Anasagora di quello su me ne. Va bene.